Un bambino di 9 anni è stato investito da un furgone in via Torchio a San Maurizio d'Opaglio e è stato ritrasportato a Torino. Scritte omofobi all'indirizzo dell'amministrazione comunale a Madonna del Sasso, il sindaco sporgerà denuncia. Caparre versate per appartamenti inesistenti, l'indagine dei carabinieri dell'APG di Verbagna aveva portato alla denuncia di tre uomini, tutti assolti dal giudice. Allarme medici di base in Valle Vigezzo verso una soluzione fino a settembre in carico dell'Asla alla dottoressa Filippi Netti. Il genio degli ossolani nel mondo è la mostra tratta dall'omonimo libro allestita fino a ottobre a Palazzo Silva a Domodossola. Sabato e domenica torna a Stresa Liberti con il piroscofo Piemonte, carrozze d'epoca, mostre e cena a Lumi di Candela. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. La cronaca in apertura di giornale con l'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio a San Maurizio d'Opaglio. Un bambino è in codice rosso. Un bambino di nove anni è stato investito da un furgone in via Torchio a San Maurizio d'Opaglio, quasi all'intersezione con via Roma, la strada principale che divide in due il paese. È accaduto attorno alle 14.30 di oggi. Il ragazzino era in sella alla sua bici quando parebbe perso l'equilibrio ed è finito contro il furgone che stava recandosi in una delle ditte artigiane della zona. Per il conducente del mezzo la sbandata improvvisa della bici non lo ha messo nelle condizioni di arrestare la marcia con immediatezza e l'urto è stato inevitabile. Le prime cure sono state prestate dapprima dai volontari del secorso del paese, poi è stato elitrasportato con un velivolo levato sin volo da Borgossesia a Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni, secondo il bollettino del momento, sarebbero gravi. I familiari sono stati subito avvertiti di quanto era accaduto al ragazzino e si sono precipitati sul posto dell'incidente. La zona dell'impatto è quella in prossimità della pizzeria La Stangata, alle spalle del palazzo municipale. Una notizia che ha gettato nello sconforto gli abitanti del paese, già colpiti dal lutto di una giovane di 16 anni, deceduta a causa di una grave malattia. La dinamica dell'investimento e le eventuali responsabilità sono al vaglio dei carabinieri della vicina Xerma di Alzo che hanno proceduto ad effettuare i rilievi e a raccogliere sul posto le testimonianze. Ed ora le scritte di stampo omofobo comparse a Madonna del Sasso sono indirizzate all'amministrazione. Il sindaco sporgerà denuncia alla causa, probabilmente una delibera approvata a maggio, contro omofobia e discriminazione. Scritte omofobe all'indirizzo dell'amministrazione comunale di Madonna del Sasso. Imbrattata la baccheca comunale, posta l'ingresso del paese e scritte anche su un oratorio situato in zona decentrata. L'ampi del VCO con il presidente provinciale Franco Chiodi ha subito preso posizione, condannandolo a caduto ed esprimendo solidarietà al sindaco Ezio Barbetta. Esprimo ferma condanna nei confronti di un atto omofobo e di stampo fascistoide. Fatti come questi, dice Chiodi, non vanno sottovalutati e derubricati come ragazzata. Il sindaco ha annunciato che sporge la denuncia. Spiega il sindaco. Credo questo atto sia la risposta della delibera approvata a fine maggio dal Consiglio Comunale contro l'omofobia e qualsiasi forma di discriminazione, sia essa di orientamento sessuale o per problemi fisici. Un atto passato al vaglio dell'Assemblea su richieste di arci gay. Richiesta avanzata a tutti i comuni e che noi abbiamo accolto, aggiunge Barbetta. Prevista anche una sanzione di 500 euro per i trasgressori. Questa mattina il sindaco ha dato mandato perché si ripulisse la baccheca comunale. Per la pulizia dei muri dell'oratorio prenderò contatto con la parrocchia per capire la titolarità della proprietà, conclude il sindaco di Madonna del Sasso. La cronaca giudiziaria assolti per non aver commesso il fatto e l'epilogo del processo che ha visto coinvolte tre persone accusate a vario titolo di aver pubblicato falsi annunci per case vacanza. Truffe delle case vacanze sono stati assolti per non aver commesso il fatto i tre imputati finiti a processo a Verbagna al termine di un'indagine dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura verbanese. I tre erano accusati a vario titolo di aver pubblicato falsi annunci per l'affitto di case in luoghi di villeggiatura sia in estate che in inverno sulla piattaforma Subito.it. Diverse persone avevano deciso di prenotare inviando denaro come caparra tramite bonifico su conti correnti aperti in varie banche a Verbagna. Una ventina ai casi oggetto del processo a danni di persone della zona che avevano versato somme fino a 700 euro per assicurarsi un appartamento a Madonna di Campiglio a Finale Ligure o altre rinomate località di vacanza. I soldi inviati a conti intestati a prestanome peraltro persone già note con precedenti legati agli stupefacenti venivano poi prelevati e sparivano. Della casa prenotata nemmeno l'ombra. Uno degli imputati aveva ammesso di aver aperto il conto su richiesta di uno dei tre che secondo la procura aveva gestito il sistema e di aver prelevato con il Bancomat le somme ricevute dalle vittime e di avergli consegnate direttamente in cambio di una percentuale. L'indagine era partita da alcune segnalazioni di una direttrice di banca che aveva notato movimenti anomali. I militari, coordinati dalla procuratrice Olimpia Bossi avevano denunciato tre persone. Al termine del processo il giudice Donatella Banci Bonamici li ha assolti. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni. Inoltre il Tribunale ha stabilito che le somme sequestrate dai carabinieri trovate sui conti correnti utilizzati per le truffe dovranno essere restituiti. Dal momento che sono stati assolti gli intestatari dei conti i soldi potrebbero a questo punto tornare a loro. Uno dei tre imputati la scorsa settimana era stato condannato a otto mesi per un altro caso analogo di truffa dal giudice Antonietta Sacco. Deve scontare una pena di nove anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso materiale. Il 28enne Soma lo ha arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola. Ieri pomeriggio a bordo di un treno Eurocity proveniente da Basilea e diretto a Milano. I poliziotti hanno subito notato il suo atteggiamento sospetto e lo hanno fatto scendere per approfondire il controllo in ufficio. È infatti emerso che era destinatario di un provvedimento di cattura dell'autorità giudiziaria di Catania. Il somolo è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Verbagna. E torniamo ad occuparci dell'allarme medico di base lanciato in Valle Vigezzo con una novità in carico a tempo determinato per la dottoressa Filippinetti. Allarme medicina di base in Valle Vigezzo finalmente si va verso una risoluzione. Prima le proteste dei sindaci poi una petizione pubblica ed ora la buona notizia con una risoluzione ponte. Ad una settimana dal guido d'allarme lanciato dalla Valle Vigezzo l'ASVCO ha ora comunicato di aver provveduto conferire l'incarico a tempo determinato alla dottoressa Claudia Filippinetti per coprire fino a settembre tutti i pazienti che nel frattempo dovranno provvedere alla scelta del medico. Ringrazio per la sensibilità dimostrata dalla dottoressa Chiara Serpieri direttore generale dell'ASVCO e il dottor Paolo Borgotti direttore del distretto VCO ma voglio chiarire precisa il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini che si era fatto portavoce delle necessità dei pazienti che la presenza della dottoressa Filippinetti sarà ridotta rispetto al passato a causa di una impossibilità a condurre l'assistenza primaria e continuativa a partire dal 1 luglio per l'incompatibilità con il corso di formazione che la dottoressa conduce per poter diventare medico di famiglia titolare. L'invito è quindi a tutti i pazienti che abbiano particolari necessità di cura anche a domicilio a provvedere il prima possibile alla scelta del medico tra i professionisti presenti nell'ambito territoriale 1 in grado di accogliere le loro necessità. Al momento in Piemonte non risultano situazioni di pericolo però le cose possono essere veramente improvvise avvenire nell'arco di qualche giorno quindi dobbiamo essere molto attenti così l'assessore regionale all'ambiente Marnati a margine della firma di una convenzione per lo studio del bacino glaciale della Bessanese a rifugio Gastaldi nel Torinese sulla situazione dei ghiacciai del territorio i nostri ghiacciai ha sottolineato Marnati stanno soffrendo molto e abbiamo visto in questi giorni quanto può essere pericoloso quindi più si studia più si ricerca e più si riescono a capire i movimenti tutti dovrebbero essere monitorati abbiamo ghiacciai importanti e gli studi dimostrano quanto si siano ritirati stiamo valutando ha rimarcato anche la sensoristica cosa che oggi non è prevista ha interpellato sull'ipotesi di vietare l'accesso ad alcune vette l'assessore ha detto che è una cosa da approfondire intanto però il comune di Macugnaga ha stoppato il giro del lago delle locce vietato il giro del lago delle locce a 2200 metri di altitudine ai piedi della parete est del monte rosa sopra l'abitato di Macugnaga siamo in valle anzasca lo ha deciso dopo la tragedia della marmolada il comune guidato dal sindaco Alessandro Bonacci con un'ordinanza si tratta di un tracciato molto frequentato dagli escursionisti sotto la punta tre amici ma divenuto potenzialmente a rischio è escluso dal divieto il breve tratto compreso tra il canale di scolo e il grosso masso erratico una commissione di esperti composta da esponenti del CAI della commissione valanghe del soccorso alpino ha consigliato l'amministrazione a proibire l'itinerario a causa delle criticità delle condizioni climatologiche della parete est del monte rosa allo stato allo stato attuale spiega l'amministrazione di macunaga i ghiacciai non destano particolari problematiche gli stessi glaciologi che monitorano il ghiacciaio del belvedere non hanno riscontrato momentaneamente criticità ciò nonostante si ritiene di interdire il giro del lago delle locce il comune di macunaga infine ha organizzato periodici monitoraggi aerei da parte di personale qualificato infine l'invito a tutti gli escursionisti ad osservare il divieto e a mettere in atto ogni cautela utile a garantire l'incolumità nonché ad assumere necessarie informazioni sulle condizioni del percorso che si intende intraprendere in caso di escursione siamo allo spazio settimanale con fondazione comunitaria VCO e con Donare per Crescere quest'oggi parliamo del biscotto solidale con quanto raccolto a favore della popolazione ucraina è un'iniziativa degli studenti del Verbano Cusiossola Biscotto solidale è un'iniziativa benefica realizzata dalla consulta provinciale degli studenti in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale la Croce Rossa Avis Verbania e fondazione comunitaria VCO un progetto in sostegno alla popolazione ucraina in realtà l'iniziativa è nata i primi giorni di marzo con lo scoppio della guerra ci siamo chiesti cosa possiamo fare ovviamente in minima parte per aiutare il popolo ucraino così afflitto dalla guerra dei russi allora ci è venuta in mente l'idea del biscotto solidale quindi questi pacchetti di biscotti assortiti che noi abbiamo venduto nelle scuole superiori della provincia e il cui poi devoluto abbiamo dato alla fondazione comunitaria quindi la consulta ci è chiesta cosa possiamo fare noi giovani per aiutare il popolo ucraino allora abbiamo ideato questa iniziativa che è il biscotto solidale quindi è un'idea condivisa ma di che cifra si parla? Noi abbiamo raccolto 2400 euro poi fondazione comunitaria raddoppierà l'importo totale e Avis e Croce Rossa italiana doneranno ciascuna 500 euro quali sono le scuole coinvolte? Allora a questo progetto hanno partecipato in modo molto positivo attivo le scuole secondarie di secondo grado della provincia del VCO c'è stato un impegno da parte dei rappresentanti delle consulte nella fase di raccolta e di organizzazione delle attività in supporto invece la parte pratica di realizzazione di vere e proprie insomma del biscotto e dei pacchetti sono stati coinvolti l'alberghiero Maggia di Stresa VCO Formazione e il Formont Villa Dossola Come la filosofia di Avis Verbania ha sposato questo progetto? Avis già da diversi anni a fianco all'ufficio scolastico in tutte quelle che sono le iniziative solidali la proposta dell'ufficio scolastico è subito stata accolta dal nostro direttivo e abbiamo deciso di devolvere 500 euro per questa bellissima iniziativa Un'iniziativa accolta anche dalla Croce Rossa di Verbania Sì noi siamo stati molto contenti di essere coinvolti in questa iniziativa perché comunque ha permesso di valorizzare quella che è l'attività svolta da questi ragazzi anche per il loro percorso formativo e contribuire quindi a fare del bene Qual è l'importanza di iniziative come questa? Allora la fondazione comunitaria del VCO è sempre molto disponibile accoglie con molto piacere le proposte che vengono dalla scuola dall'ufficio scolastico in particolare questa è particolarmente diciamo significativa per quelle che sono i valori e l'attività della fondazione quindi è un progetto che coinvolge i giovani li rende protagonisti soprattutto promuove la cultura del dono sul territorio e quindi la fondazione ben volentieri ha accolto questa iniziativa raddoppiando quella che è stata la raccolta fatta dai ragazzi attraverso questo progetto Siamo a Omegna lezioni di giornalismo dedicata ai piccoli e gioca reporter si crea una vera e propria redazione si parla di mezzi di informazione tradizionali ma anche di ultima generazione come i blog e chissà forse qualcuno di loro magari tra qualche anno diventerà un nuovo Enzo Biaggi un nuovo Entro Montanelli beh non si può mai sapere l'importante è cominciare anche se si è piccoli a provare a scrivere a leggere e anche imparare a comunicare perché magari piccoli giornalisti in tante insomma piccoli giornalisti crescono chi lo sa Questo è il mio progetto che ho creato io si chiama il gioca reporter è un progetto che è nato per i bambini di età dai 6 ai 10 anni e ho voluto creare questo progetto per aiutare i bimbi a capire come comunicare con il mondo esterno e tra di loro imparare a collaborare e a conoscere questo mondo del giornalismo e della comunicazione ma anche stimolare in loro la creatività e ampliare il loro vocabolario Quanti sono i ragazzi che partecipano a questo progetto? Allora di volta in volta il numero dei bambini che ha partecipato è sempre variato perché non c'è un numero fisso però siamo riusciti sempre a creare delle piccole redazioni dove loro poi hanno ricreato il loro elaborato e diciamo sempre una quindicina di bambini ecco Come si svolge il lavoro diciamo di questi piccoli giornalisti e di queste piccole redazioni? Allora all'inizio io faccio una lezione introduttiva su una tematica e una diversa modalità di giornalismo appunto dal comunicato stampa all'intervista alla conferenza stampa la rassegna stampa abbiamo visto anche il blog e il giornalismo digitale dopo questa breve introduzione facciamo sempre un dibattito degli indovinelli per rendere i bambini partecipi alla lezione e dopo li suddividiamo in piccole redazioni di modo che i bambini si dedicano sia alla parte scritta che alla parte grafica e possono inventare anche il nome di una loro redazione immaginaria anche che non sia reale vanno a rappresentare quindi l'argomento che abbiamo trattato appunto anche grazie a immagini ritagliate da giornali e dopo rappresentano alla fine con il microfono il loro elaborato e quindi lo espongono a noi educatori e con le famose 5W come se la cavano questi piccoli giornalisti diciamo che dopo tanti moduli tante lezioni loro hanno finalmente capito come funziona Il genio degli ossolani nel mondo è il titolo di una mostra allestita a Palazzo Silva fino ad ottobre e tutto nasce da un libro Il genio degli ossolani nel mondo tutto parte da questo libro scritto da Enrico Rizzi ed è diventato una mostra che è allestita a Palazzo Silva a Domodossola fino al 15 di ottobre gli ossolani illustri sono tanti 300 quelli raccontati qui nella mostra è stata fatta una piccola selezione come questi illustri ossolani dialogano con la collezione di Palazzo Silva ma sì l'allestimento è stato fatto intanto non dimentichiamo che siamo nella residenza cinquecentesca di una grande famiglia ossolana e della Silva e quindi l'allestimento della mostra si integra con quella del museo e la scelta è stata fatta su questi 80 personaggi non tanto per essere i più importanti tra i 300 che sono a loro volta i più importanti in un numero molto più vasto ma perché sono quelli che hanno un po' portato l'ossola nel mondo nelle varie attività dall'imprenditoria alla politica alla magistratura alla chiesa quindi sono state scelte in questo senso e la mostra poi non è solo una mostra documentaria ma sono anche esposti oggetti originali quadri anche importanti di pittori importanti come Guido Reni come Francesco Hayez che hanno lasciato ritratti di questi ossolani libri antichi manoscritti e altro dicevamo che tutto è partito da questo libro dove sono raccontati questi 300 ossolani geniali ecco come ha lavorato con Enrico Rizzi per dare vita a questo volume beh Enrico Rizzi è sempre impreveribile nelle sue idee questa è un'idea che parte molto da lontano da suoi amici che negli anni che 30 anni fa avevano ipotizzato un lavoro di questo genere e si è concretizzato solo adesso questo libro è importantissimo perché per il nostro territorio è stata è anche una riscoperta se non una scoperta di questi grandi personaggi il tutto è grazie alla fondazione Ruminelli che ha dato un grosso sostegno per la la mostra poi la Giussani Bernasconi di Varese che con Paolo Zanzi ha creato l'idea di questa di questa mostra e grazie anche al Comune che ha dato ospitalità a Palazzo Silva che nella partura estiva da modo di essere goduta nel miglior modo possibile Enrico tra questi 300 personaggi uno che l'ha colpita particolarmente ma posso dire più che un singolo personaggio una famiglia o più famiglie come i Proli Vigezzini Mattei De Albertis i Proli erano stati fondatori della compagnia di Ostenda imperiale che commerciava nel 700 una delle più grandi dinastie imprenditoriali europee del 700 con anche delle vicende romanzesche tra di loro e queste sono anche affascinanti perché credo che siano in fondo il legame tra l'Ossola e l'Europa Musica in quota domenica 10 luglio sbarca in Valle Vigezzo dopo il successo della tappa al Piancavallone la rassegna porta musica e parole del duo Passa Montagna la baita dell'Alpe e l'Alpino nel comune di Villette Canti dalle montagne del mondo è il titolo dell'esibizione in programma alle ore 11 e 30 il duo Passa Montagna si dedica al contrabbando di suoni melodie e parole al confine tra lingue e culture differenti racconta di una montagna che ignora le frontiere e diventa punto di contatto tra le persone grazie ai canti della tradizione orale dalle Alpi ai Pirenei dalle Ande agli Appennini i canti sono sempre introdotti dalla storia che li accompagna da dove vengono chi li cantava come sono stati trovati da Massimo e Valentina il ritrovo per la salita è alle 8 e 30 in località Marioccio escursione di 2 ore e un quarto circa e nel prossimo fine settimana il ritorno di Stresa Liberty un'atmosfera che riporterà il pubblico a cavallo tra 800 e 900 nella Perla del Lago Maggiore dove torna anche il piroscofo Piemonte e ci saranno le carrozze d'epoca Togliete dalla naftalina i corpetti le eleganti gonne a campana i pizzi rispolverate i gioielli Art Nouveau parasoli e cappellini questo fine settimana sabato e domenica torna Stresa Liberty un tuffo a cavallo tra 8 e 900 potrete ammirare i gruppi in costume in città o decidere di aderire al dress code del fine settimana quando l'atmosfera sulle rive del Lago Maggiore sarà certamente di grande fascino complice il ritorno del piroscafo Piemonte e poi le carrozze con i cavalli mostre e gruppi storici uno sguardo al ricco programma partendo da sabato in mattinata presso il porto turistico l'arrivo delle imbarcazioni dell'associazione vele d'epoca verbano che resteranno in esposizione fino a domenica alle 14 al palazzo dei congressi l'inaugurazione delle mostre di Stresa Liberty quella di abiti ombrelli d'epoca e di divise storiche dell'arma dei carabinieri e l'esposizione che racconta la città oltre un secolo fa alle 15 e 30 sempre al palazzo dei congressi conversazione dedicata a Stresa come luogo di villeggiatura dell'aristocrazia nella belle epoche alle 17 e 30 all'imbarcadero lettura all'ora del tè a cura del gruppo ventaglio d'argento in serata nei ristoranti cittadini cena lume di candela con la band itinerante dirty dixie jazz band e le danze del gruppo balastorie domenica alle 10 e 20 l'arrivo del piroscafo piemonte storico natante a vapore del 1904 gioiello di navi d'agazione laghi con a bordo oltre 130 figuranti il piroscafo rimarrà ormeggiato per visite guidate e nella tarda mattinata e per tutto il pomeriggio effettuerà crociere a pagamento nella cornice del golfo borromeo dalle 11 nel centro storico sfilata danze e musiche all'ora di pranzo picnic in abiti storici nei giardini del lungolago e concorso di arti visuali en plein air nel primo pomeriggio il ritrovo di tutti i gruppi storici sul lungolago antistante l'hotel regina palace ci saranno i carabinieri a cavallo dalle 16 la sfilata di carrozze d'epoca con equipaggi in costume anche nelle vie del centro storico e in chiusura una notizia di bocce sabato alle 15 in quel di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna la squadra del Possaccio si gioca contro l'inex mosciano del campione del mondo Gianluca Formicone l'accesso alla finalissima del giorno dopo le altre due finaliste sono la squadra campione in carica del Caccialanza e la Boville di Marino le due vincenti se la vedranno il giorno dopo sugli stessi campi dalle 9 del mattino questi i sette giocatori convocati dal DS Sergio Tosi Nando Paone Roberto Signorini Giovanni Scicchitano Cristian Andreani Paolo Rossoni Roberto Mazzolini e Lorenzo Porcellati la squadra con dirigenti alcuni tifosi e simpatizzanti parte per la località bolognese già domani e così chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale vicioazzurratv.it le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata grazie a tutti Grazie a tutti.